fratelli bianconeri e non buongiorno a tutti voi dunque video di oggi per cercare di darmi un chiarimento di dare a me stesso un chiarimento ma vi voglio rendere partecipi per di questo nel senso allora la juventus è in questo momento impegnata su due fronti uno dei due importantissimo che si potrebbe concretizzare questo almeno tutti ce lo auguriamo da juventini la prossima partita che ci vedrà impegnati in casa con la salernitana il quale il nostro allenatore anziché infondere sicurezza ai ragazzi e cercare di dare degli stimoli continua ad andare dire che è una gara difficile e densa di insidie quindi mettendo già nella testa di una squadra palesemente provata da una stagione difficile dove non gli è riuscito praticamente nulla non vanno dimenticati 14 punti nelle ultime 14 partite fa questo tipo di esternazioni che a mio parere non fanno bene alla squadra però ripeto io credo che parlando della salernitana le parole dovrebbero essere diverse da parte di un allenatore ma non voglio parlare tanto di questo secondo obiettivo sappiamo tutti che è la finale di coppa italia che si giocherà il 15 questo significa che siccome sono mesi che tutti i giornalisti opinionisti e noi tifosi ci chiediamo che fine farà allegri io giuntoli ha detto a fine stagione ci metteremo al tavolo e discuteremo beh io chiaramente non posso credere da tifoso alle parole di cristiano giuntoli non lo posso credere anche perché io sono diciamo nell'ambiente del calcio nel senso che seguo il calcio da oltre 50 anni quindi ormai alle favole di certi personaggi non ci credo più mi rifiuto a livello personale di credere che la juventus al 5 di maggio oggi il 6 non abbia già le idee chiare su quello che dovrà fare io non ci credo per nulla anche perché giuntoli mi sembra tutto tranne che uno sprovveduto da questo punto di vista io credo che la juventus le sue decisioni le abbia già prese sono decisioni chiare maturate negli ultimi soprattutto negli ultimi quattro mesi e queste decisioni a mio parere portano ad una separazione di allegri dalla juventus anche perché non vedo quale potrebbero essere le attenuanti di questo allenatore che in tre anni non ha saputo fare nulla praticamente non ha costruito nulla e nonostante si dica che abbia lanciato molti giovani a mio parere non l'ha fatto perché perché i giovani che noi che lui ha lanciato anche il più forte il diz è un giocatore rilegato ormai in panchina e non gioca più quindi secondo me allegri si è giocato tutte le carte in pessimo modo per quello che potrebbe riguardare la sua permanenza sulla panchina della juventus e io credo che soltanto una società folle lo confermerebbe solo una società folle qui non contano i soldi perché come ho già fatto nel video precedente non si parla di 40 milioni come ha detto qualcuno non è vero 40 milioni ora partiamo da un presupposto nessuno di noi a oggi nessuno sa che cosa potrebbe venire a costare il nuovo allenatore tutti tutti non io perché a me non interessa farlo ma tutti ragionano ma io penso che dovrebbe prendere due tre cinque siccome di preciso nessuno lo sa io mi sono fatto un'idea parliamo ovviamente dell'allenatore che più di qualunque altro pare abbia le possibilità di sedersi sulla panchina della juventus e stiamo parlando di tiago motta allora tiago motta prende circa due milioni all'anno a bologna va bene chiaramente viene nella juventus la piazza più importante d'italia la più blasonata la più criticata la più odiata ma soprattutto dove ci sono le più alte responsabilità in senso di vittoria io è chiaro che mi aspetto che come minimo lo stipendio si raddoppi però voglio esagerare parliamo di 5 milioni all'anno se gli viene fatto un contratto di tre anni 5 10 15 più in lordo siamo intorno ai 30 milioni in tre anni diciamo più o meno ok senza fare facendo i conti della serba 30 milioni ma noi non dobbiamo contare i tre anni perché a tiago motta non è che gli danno 3 milioni gli danno 30 milioni di anticipo lo pagano anno per anno quindi i soldi che ci tra virgolette dovrebbe sborsare la juventus nel esonerare allegri e portare tiago motta alla juventus quest'anno si parlerebbe di 7 14 22 siamo intorno ai 25 milioni più o meno tra tutto non so dico io più o meno una cifra del genere grosso modo non è che vado a fare il preciso non voglio fare il precisino di cocchi e croce e io non credo che una società che voglia cambiare si faccia rallentare da questo tipo di conti perché la juventus non ha problemi a trovarsi 25 ma anche se fossero 30 milioni non ha proprio problemi la juventus e allora quello che mi soviene chiedermi oltre al fatto del ma la juventus a maggio non ha ancora le idee chiare non lo voglio neanche pensare ripeto secondo me ferrero presidente scanavino calvo e giuntoli sanno perfettamente chi sarà l'allenatore della prossima stagione la cosa che mi lascia perplesso a me personalmente come tifoso però è il fatto che alla juventus non possano dire le cose prima perché di chissà di che cosa hanno paura l'esempio più classico quest'anno l'ha fatto il bayern il bayern che ha in panchina tuchel l'hanno esonerato 4 5 mesi fa lui sa già che alla fine della stagione comunque va dalla stagione andrà via giuntoli ha continuato a ripetere a ribadire invece che fino a che non saranno raggiunti gli obiettivi non si parlerà di nulla io invece non riesco a capire perché di questo blocco perché vi dico questo ad allegri poi dirgli quello che vuoi può piacere a me no può non piacere a me sì puoi volergli bene come uomo lo rispetto poi tutto quello che volete però nessuno può dire che allegri non sia un professionista giusto perché lo è poi che sia un professionista strasopravvalutato questo è un altro discorso però professionista lo è io credo che allegri non non avrebbe fatto delle grandi problematiche nel continuare il suo lavoro in modo serio e portarlo fino in fondo raggiungendo gli obiettivi anche se fosse stato messo sul piatto davanti a tutti che lui non sarebbe più stato l'allenatore della juventus cioè io non vedo tutto questo c'è questo necessario tenere tutto all'oscuro perché prima raggiungiamo gli obiettivi e poi parliamo ma cara juventus qui come digano a napoli h niscione fess qui l'antifona l'hanno capita tutti cioè se voi e mi rivolgo alla società juventus se la juventus non fa pazzie perché per me sarebbe una pazia riconfermare allegri la strada è già stata tratta sappiamo tutti che la juventus cambierà allenatore a fine stagione ripeto e ribadisco a meno che non succeda l'imponderabile ma se no allegri è già fuori dalla juventus allora è così perché tanto è così perché non dirlo sapete vi voglio portare un altro esempio per chi è datato come me se lo ricorderà vi ricordate che noi abbiamo avuto un giocatore alla juventus che si chiamava liam brady ve lo ricordate ok grande professionista liam brady venne a sapere dalla juventus che non sarebbe stato riconfermato perché la juventus aveva già preso michelle platini ok quindi lui seppe prima della fine della stagione che sarebbe andato via un non professionista se ne sarebbe fregato invece liam brady regalò se non mi ricordo male lo scudetto alla juventus tirando proprio all'ultima giornata un calcio di rigore in una partita mi pare se non mi ricordo male contro il catanzaro mi pare adesso non vorrei dire mi sembra il catanzaro e si comportò da super professionista un altro esempio non citiamo il calcio citiamo la formula 1 carlos sainz ha saputo che andrà via alla fine della stagione praticamente la stagione quasi doveva ancora cominciare però si sta comportando da grande professionista quindi io quello che non capisco è tutto questo alone di mistero perché o si vuol fare una sorpresa a tutti e poi la juventus se ne esce fuori una volta conquistata la champions è una volta giocata la coppa italia che si vinco chi si perda e salteranno fuori allegri è confermato ma altrimenti io non vedo cioè non vedo il perché di tutto questo mistero io credo che invece la juventus avrebbe fatto molto meglio a comunicare la dipartita di allegri e comunicarlo subito perché anche i giocatori forse avrebbero giocato a mio parere più sciolti secondo me sì questa è un'opinione mia io ripeto io non voglio credere che la juventus confermi questo allenatore perché per me sarebbe follia è un allenatore che è in crisi con tutto e con tutti gli stessi giornalisti molti di essi che fino a mesi fa erano sul cavallo di allegri sono scesi quasi tutti quindi io non voglio pensare che la juventus lo possa confermare non ci credo per nulla ciò non toglie che ripeto tutto questo ostracismo nei confronti di questa notizia io non la trovo giusta se io fossi stato nella società juventus avrei informato già l'allenatore ma lui secondo me lo sa già ma soprattutto lo avrei anche già messo al bando perché alla notifica di tutti perché vedete anche quando nella curva anche quando si va in trasferta con i tifosi che tirano fuori striscioni sapete tutti di cosa sto parlando secondo me si continua a fare del sangue inutile sangue velenoso io invece fossi stato nella società juventus presa la decisione in un modo o nell'altro l'avrei già comunicata anche perché se allegri fosse ancora l'allenatore della juventus che la juventus lo confermasse a far che cosa dobbiamo arrivare a fine stagione fai vivere tutti meglio quindi lo dici quindi signori la mia soluzione finale secondo me allegri ha già lasciato la juventus è un professionista cercherà di conquistare gli obiettivi anche per un suo chiamiamolo curriculum personale però io credo che allegri sia già fuori perché ripeto se allegri fosse ancora in sella la juventus la juventus l'avrebbe già comunicato il fatto di questo ostracismo che io ripeto non condivido secondo me non credo che ci sia alcun che tipo di appiglio del perché allegri resti sulla panchina della juventus nel modo più assoluto ed è credete un bene per la juventus ma anche per lui che sono mesi mesi e mesi che ormai si sente colpevolizzare come se lui fosse il primario male della juventus io non voglio dire brutte parole però sicuramente il fallimento di allegri negli ultimi tre anni è palese e che lui vinca o meno un trofeo non è quello che secondo me gli può salvare la stagione staremo a vedere però ripeto una critica alla società perché questo tipo di notizie nel bene o nel male trattenerle fino alla fine della stagione per me fa bene fino a un certo punto opinione mia ciao a tutti